Ha chiesto di intervenire l'Onorevole Rotondi, ne ha facoltà. Signor Presidente, per me è molto difficile parlare oggi perché sono qui e sono entrato in politica per essere stato ammesso a 15 anni nella Corte più eccentrica e singolare della politica di quella che si chiama Prima Repubblica, la compagnia di amici di un intellettuale prestato alla politica che ha cambiato la politica senza smettere di essere una personalità straordinaria di intellettuale e corrispondente ai tratti che lei ha splendidamente ricordato di mitezza, di umanità, di cordialità. 45 anni di amicizia mi consentirebbero di parlare a lungo ma starò nei minuti che lei mi accorda. Potrei raccontare cose che sicuramente piacerebbero ai colleghi più giovani perché la figura di Gerardo Bianco andrà conosciuta e ricordata a lungo e raccontata. Onorevoli colleghi, potrei raccontarvi di Don Bonifacio e Donna Maria Bianco, nobiltà terriera del Sud, che mandarono questo figlio bravo a studiare a Milano alla Cattolica, dove conobbe e intrecciò rapporti con comprovinciali che si chiamavano demita, in parte con regionali o con meridionali, come misasi, e con Enrico Mattei diedero impulso a scelte destinate a condizionare la democrazia cristiana. Potrei raccontare del suo dalizio con un grande che lui ha sempre onorato, Fiorentino Sullo, con cui questa covata di giovani realizzò sintesi coraggiose e poi intrecciò i ferri di una polemica rovente che fece dire al grande Giorgio Bocca cosa avrà mai la magia di questa politica che strappa queste intelligenze vocate alla buona lettura e alla letteratura e le consegna a palchi di Paese dove spiegano concetti complessi a popolazioni che forse non li seguono fino in fondo. È un tempo lontano, ma vicinissimo se pensiamo alle scelte che Gerardo Bianco ha fatto e ne potrei raccontare tante. Preferisco, per valorizzare questi pochi minuti, tenermi solo su quella che è la testimonianza che lo definisce e lo consegna alla immortalità in quest'Aula dove è stato protagonista fino alla fine. Mi viene spontaneo guardare verso i banchi del centro, dai quali nell'ultima legislatura punteggiava i dibattiti con citazioni mai presuntuose, sempre pertinenti e ironiche che animavano la vita parlamentare. Bianco è stato il difensore del Parlamento, sempre. Certo, come lei ha ricordato, Presidente, ha fatto scelte politiche che sono state importanti ed io cito anche quelle che non ho condiviso, l'Ulivo, la fondazione del Partito Popolare e soprattutto mi inchino a un maestro che ha consentito all'allievo di avere un'opinione diversa senza che smettesse di essere allievo e è stato maestro fino alla fine, ricordandomi anche nell'ultima conversazione che il primo dovere che noi abbiamo come parlamentari è difendere il Parlamento, come lui ha fatto. Lo fece nella democrazia cristiana. Noi ci riuniamo in una saletta che si chiama Aldo Moro e si chiama così perché Moro lì spiegò l'opportunità di votare la fiducia al governo Andreotti di solidarietà nazionale, soprattutto a cento parlamentari della democrazia cristiana che non la volevano votare ed erano guidati da Gerardo Bianco che esprimeva, si diceva che erano i peones, i cento, la maggioranza silenziosa, un'opinione diversa, grandezza di Moro che si inchinava a peones ad illustrare ma grandezza di Gerardo Bianco che difendeva la libertà del Parlamento rispetto anche a una indicazione di partito, il Parlamento autonomo dal partito, come quando fu eletto per volontà dei parlamentari, cabogruppo del primo partito, contro la volontà della segreteria del partito. Se noi avessimo un'oncia del coraggio civile che ha avuto Gerardo Bianco, questo Parlamento non sarebbe divenuto in alcune legislature quello che, ahimè, purtroppo talvolta è stato, una cinghia di trasmissione della volontà dei partiti. E anche nel suo ultimo incarico di presidente degli ex parlamentari, lui ha prestato il suo sorriso bonario a una battaglia a difesa della dignità e della libertà del Parlamento, ben sapendo che la furia demagogica che attraversava, ben concertata da direttori d'orchestra e corifei del circo mediatico che attraversava il dibattito civile nel Paese aveva la sola finalità di tagliare le unghie a questa Assemblea, perché i forti sono già forti e chi parla qui non parla a nome dei forti, ma dei più deboli. E quindi tutte le battaglie antipolitiche e antiparlamentare sono sempre battaglie contro i più deboli. Presidente, questa penso sia la lezione più grande del presidente Bianco. Io non gli ho mai dato del tu quando me lo ha chiesto, l'ho sempre chiamato presidente. Penso di doverla ringraziare perché il suo gesto di accogliere qui la Salma con la Camera Ardente visitata da tanti colleghi e programmare subito questa commemorazione archivia una stagione, diciamo, di leggerezza non casuale che abbiamo avuto in passato nel rispetto della nostra stessa storia. E quindi è un auspicio bellissimo che fa coincidere questo momento doloroso, forse, con una inversione di tendenza di cui il presidente Bianco sorriderà dal paradiso. E quindi io che non gli ho mai dato del tu voglio a nome del gruppo parlamentare e penso di tutti i colleghi concludere dicendo solo grazie Gerardo.